Benvenuti al corso di formazione online sulla Kerasoft DC. I seguenti moduli forniranno a te, specialista della visione, le informazioni obbligatorie per poter applicare una lente a contatto Kerasoft DC. La Kerasoft DC è una lente morbida su misura che viene usata per applicare tutti gli stadi di keratocono e molte altre condizioni di cornea irregolare, incluso casi di degenerazione marginale pellucida, post-trapianto e post-chirurgia refrattiva. È possibile ordinare la lente in una vasta gamma di curve base e una Kerasoft DC standard può essere applicata in casi fino a un 80% di cornea irregolare. Tuttavia, se necessario, la geometria della lente permette una personalizzazione incluso cambiamenti nella periferia indipendentemente dalla curva base. La periferia può anche essere modificata in aree specifiche per poter applicare corne più complesse. Questo viene chiamato Sector Management Control. I protocolli per l'applicazione della lente sono molto chiari. Un set di prova che consiste in otto lenti con curve base varie verrà utilizzato per determinare la lente al fine di raggiungere un'applicazione ottimale. Questo verrà descritto nei dettagli nei moduli che seguono. Ma prima, tramite la parola di John Clamp, inventore della lente Kerasoft DC, verrà illustrato come funziona questa lente. La Kerasoft DC è una lente morbida tornita realizzata appositamente per ogni singolo paziente in base alle proprie caratteristiche. È basata su una geometria tricurva che dà alla lente una flessibilità aggiuntiva. La Kerasoft DC è quindi in grado di soddisfare una vasta gamma di topografie corneali e di applicare molte corne irregolari. La lente copre la cornea, ma non duplica le distorsioni corneali, creando così una superficie regolare. Perciò, nei casi di astigmatismo, la lente viene realizzata con una superficie torica anteriore. Questo lascia la superficie posteriore inalterata in modo da poter applicare una cornea irregolare. La lente a un Lumimark verticale è ore 6. Le ottiche del Wavefront presenti sulla superficie della lente massimizzano il risultato visivo nelle cornee anche più irregolari. Il sistema di applicazione della Kerasoft DC si avvale di un metodo salutare e confortevole di correzione visiva per cornea irregolare. Il materiale silicone e idrogel resta confortevole per tutto il giorno. La Kerasoft DC può essere indossata per gran parte del giorno, permettendo al paziente di riprendere uno stile di vita normale. Improvvisamente il mio occhio non era più dolente e rosso e quando ho tolto la lente non ho sentito quel desiderio incredibile di strofinarmi l'occhio. Adesso è un anno che sto indossando queste lenti. Mi sono tolto la lente solamente una volta durante il giorno in un anno intero, mentre lavoravo in un ambiente all'aperto. Tra due o tre settimane sarò un insegnante abilitato e non posso credere che sia veramente giunto questo momento. Se non fosse stato per le lenti Kerasoft non sarei stata in grado di svolgere questo lavoro. Per informazioni sui benefici clinici della Kerasoft DC, per visualizzare le testimonianze complete dei pazienti e per scaricare i casi clinici, fare riferimento alla sezione dedicata alle risorse cliniche. Sei giunto adesso al termine del modulo introduttivo. I moduli successivi sono suddivisi nelle seguenti sezioni. La sezione dedicata all'applicazione base, che fornisce gli strumenti utili al fine di raggiungere un'applicazione ottimale con la Kerasoft DC. La sezione dedicata all'ordinazione della lente, che riguarda tutti gli aspetti utili per procedere con l'ordine. La sezione dedicata all'applicazione avanzata, che offre una guida per l'applicazione nei casi di ectesie naturali complesse e corne postchirurgiche. E infine la sezione dedicata alle risorse cliniche, che include risoluzione dei problemi, glossario e scaricamento dei file. Sarebbe opportuno esaminare le varie sezioni nell'ordine dato, anche se è possibile accedere indipendentemente a ciascuna sezione o modulo individuale. Se sei un professionista della visione, puoi accedere a questi moduli registrandoti online o contattando il servizio clienti Sana Lens. Tutti i contatti sono disponibili sul sito web www.sanalens.com. www.sanalens.com. www.sanalens.com.